Ecco a voi il meglio e il peggio di questo 2023 di Basic Gaia Io direi di iniziare ovviamente dai primer Non siamo neanche ai primer, abbiamo già iniziato a fare delle cose, perfetto Cos'è caduto tra l'altro? Cioè non viene mai toccato Il tappo Occhio, ho scoperto Oh madonna, no era quello di Elf Sano e salvo No Non volevo mettermelo sul naso Subito Allora, dove è finito? Dove è finito qua? Mi dura la situazione sul mio naso? È terribile Mi chiedo se questo antifurto smetterà mai di suonare così posso continuare a parlare Poi un'altra cosa che... Mischiata con il... Log Non si mangia lo scotch dei pacchi No, 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 no Se non butto giù una luce oggi non lo farò mai più Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Ma la mia presenza È un po' provabile Proverò senza il set... Nel complesso posso dire che... Agenda Che sembrano Quindi Log sta giocando fuori dalla porta Non so se potete sentire Allora, è sicuro E lo vado a fare con i nuovi vidi... Vidi... Allora È proprio... Me lo devo cacciare sempre nel naso Il ne... Nooo Nooo Ecco la magnetica perché... Ecco Ma io oggi che cos'ho? Nooo Log E noi ci vediamo nel prossimo Peace out Sì, senza il gesso Sì, senza il gesso Stare con... Un po' Alè Tutto Strike E invece siamo Nooo Ah piccolo Facci vedere anche ogni tanto Girati Eh, mi mori insieme Troppo colato però Pagelita Pagelita Fai un passaggio un po' per la telecamera Che senso? Roba piano Una cosa che sembra che non devi andare a lavoro tra due minuti Esatto Che si cura un po' del proprio aspetto Senza avere altri pensieri Sto senza pensieri Comunque Cioè tu pensi se qualcuno entrasse in questo momento in casa Ci trovassi così Giuro che non sto facendo contenuti per olyfans Continua a passare il pettina Per la telecamera Non palla? No, molto bella Si sta pannando la telecamera Bellissima E' come capita Ah la maglia No No Mi piace Credo di sapere Airbrush flawless filter No Airbrush flawless La airbrush Oggi non so parlare Ok Come genere Genere E' finito per trarre il correttore Ecco perché non l'ho trovata Ma no Ma no Ma no Ma no Ma c'è palle Vabbè Comunque Passiamo No Devo piegare le ciglia E da E da questo lato Di qua ne aggiungo anche Ma perché mi sporco sempre? Tutto che cade Inaspettata Veramente Molto inaspettata E quindi Lo faccio vedere E' questo New Ah si sto registrando Ecco Stavo per fare una cosa Veramente Un casino Mi trovate come Basic Underscore C'è un pezzettino Vabbè comunque Veramente Qua mi sono sporcata Perché non l'ho chiuso Dannazione I rimori Ups Io che si Ma Non so perché non respiro Quando registro Sti video Sicuramente Storto Mi dimentico sempre Di farvi dei close up Ma è perché La messa a fuoco È bastante Personalmente Trovo Mamma mia Quando Vlog Influencer Cioè lei parla benissimo Inglese Con l'accento perfetto Io non riesco neanche Di l'influencer Perfetto Ci sono i lavori Di sottofondo E non sto capendo Se si sentono o no Probabilmente si Pazienza Io spero Non si sentano Di sottofondo Quelli che stanno Credo Tagliando Un trave In acciaio Vi giuro Mi sembra di vivere In un'acciaieria Ogni tanto Sono difficili A togliere Sti roba Ecco Una cosa Che incredibilmente Minte Oggi non so parlare Sono confusa E sto parlando Di lui Il blush Luminoso Che sei Che male Che male Che male Perché Mi devo sempre Far male Perché Mi sento Neville Pachock Quando Quando I cosi Che volano Nel terzo Non nel secondo La camera dei segreti Lo tirano su E lo appendono Al lampadario E lui dice Ma perché Sempre a me Neville Ti capisco Nella tonalità Ci Benvenuti Nel nostro delirio Mostra anche Un po' I difetti Bisogna essere Trasparenti Su Vinted Che sono Tre sbadigli Incredibile Cioè Quarto sbadigli Togli Stambara Togli stambara Ehi Prova No Chissà Un secondo Set Allora Che ridere Mi sento un segugio Ok Allora Adesso Che devo fare Ah bronzer Molto bene Adesso Ups Però È volumizzante Senza dubbio Proviamolo Cioè proviamolo Anche perché Ups Non volevo lanciarlo Perché tra l'altro Sì qua Hanno messo Ben più di una goccia Ups Ah no Ma che scema Devo metterlo di qua Stesso bronzer Ma con un pennello Eccoci qua Ma più che Che c'è log Prendere Ad esempio Ups Passiamo invece A Kylie Cosmetics Cosmetics Ottimo Tra l'altro I muratori Stavano Ovviamente Come sempre Vi dico Non ce la faccio Prova Prova Ok Devo capire Se il microfono Funzionasse Prova Cioè Ma copre tantissimo Questo correttore Non me l'aspettavo Potevo metterne Molto meno E Però sono già grata Poi ho Questo qua Og Che c'è Siete pronti All'ASMR A-S-M-R Perché io credo A queste full face Di TikTok Che c'è Avrei dovuto prendere Un asciugamano Perché l'avevo preso Sotto la foundation Tu metti qualcosa E questo è L'hydra beam Brightening Non ce la faccio Non posso farti uscire Non posso farti uscire Vieni qua Che c'è Che c'è Allora Onestamente Qua Sono Glossato Stavo per distruggere Fondotinta Di Makeup by Mario Devo dire Aia E all'interno Questo è il pacco Non ce la farò mai Lip changing Cioè viene verde Cioè è proprio Ah ma non è verde Ma è solo packaging verde Ma che scam Io pensavo fosse verde Anche dentro Vabbè Cosa c'è Mamma mia Sei un vecchio brontolone Primer metto qua Vado a mettere Un primer Un primer Però Non è neanche Il colore più terribile Con Le moji Che moji Non ero dimenticata Di prendere Un prodotto Pillow talk Ma niente Mi è sembrato Di sentire un rumore In casa Ma visto che sono da sola E log Sta dormendo Qua di fianco a me Mi sono presa Un attimo male Ho provato Se voi andate Sul suo profilo Non vedete Non vedete Uno struccante Anche un po' E vediamo Ecco Ups I stecchi Quelli che c'hanno L'ingresino Mangiare Tutto ciò Io qua stamattina Mi sono bruciata Con la piastra Come inizierebbe Nel lunedì Quando mi sono bruciata Con la piastra Non dimentico Quindi mi cacco sempre Devo fare qualcosa No Non metti da deco Basta Fai il tuo lavoro E basta Brava perché Non devi parlare Non posso parlare Io questa mattina Tranquilla Bronzo Che tra tutti No Ecco Ecco Ma perché non so Non usare le cose Senza sporcarle Ecco C'hanno tipo Smashbox Smashbox Cosa fai? Non lo si augura Cosa ho buttato giù l'occa? Manello Manello che non sei altro Che ti vede Che siamo nellissimo Beh Questa era Log Che sta notiva Nel frattempo Log Vuole essere stirato Probabilmente Ti piace stare lì? Te lo lascio montato? Sto molto bene Con i capelli Rasati Carlo Comunque Come vi accennavo È stato Particolarmente Trova Difficile Trovare Cioè io mi perdo le parole Mentre parlo Il plant Plant Mi prude tantissimo il naso Ma perché? Accidenti Accidenti La domanda è Tu l'ho messo Qua Sì E soprattutto Hai la fame Sì Banana Marsha Marsha Matura Guarda che la tua faccia schifata Le bimbi che mangiano limone Perché molle Ma il gusto è buono Prova audio Penso che ci sia Un eco incredibile In questo bagno Purtroppo Questo non sta su Perché Sì Ti dico vai su Vai su Logger Gentilmente Potresti Levarti Proprio da davanti All'altra camera Grazie C'è una setta allucinante Perché mi è smontata Tossa Perché Volevo provar I suoni dei cantieri Mi sono anche in doccia Sai c'è chi ha la musica rilassante C'è chi ha i trapani Io mi rilasso ormai Con il troppo Ciao a tutti L'ho fatto malissimo Sto saluto Troppo nervosa Ciao a tutti Cosa che Deve passare un po' la tachicardia Sennò questo video Sarà un po' difficile Come lo dico Di momento Cioè Nel frattempo Nel frattempo Sei contento che la mamma Abbia scritto un libro Ci sei anche tu nel libro Ovviamente Perché Nei disegni Di Basic Megaya C'è anche quello con Log Quindi C'è anche lui Non c'è il nuovo gattino Ovviamente Perché Quando ho iniziato a scriverlo E quando abbiamo finito Forse non avevo neanche ancora idea Che avrei preso un altro gatto Comunque Cosa sto dicendo Log Un attimo Fammi finire Che caldo L'attrice dei vicini Ok Zero to brow gel 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 Sono diventata Toscana gel Con Perché l'ho già perso Ce l'avevo letteralmente in mano Ma dove l'ho messo? Dove cacchio l'ho messo? Ce l'avevo qua davanti Ce l'avevo in mano Anzi Lo stavo usando Com'è possibile? Ah Eccolo qua Si era andato a nascondere The brow Volevo parlarvene anche qua Farvi vedere Del bedè Qualche cosa è successo? Sì però basta Basta Ma è possibile? Ma io dico Ma avranno finito Sti lavori? Cioè In sto palazzo saranno Ma sono due anni Che vanno avanti Con lavori interni Esterni Il tetto Hanno fatto Di tutto Hanno alzato Di un piano Ma è possibile? Ah sì sì C'era il blush Perché devo dire Che a me questo effetto Così naturale È fresco Piace veramente tanto Ups Jessica lo trovo Ma stai andando fuori Della porta Amore Mi devi lasciare la mia Visto che è stile Questo quest'altro E poi non la leggo Non la guardo Vado a braccio E mi perdo Tutte le cose Quindi arrivati a 10 minuti Ora vi dirò anche Come mai si chiama così Comunque Guarda lì Guarda lì Guarda lì Fai vedere Che tu guardi Sempre nell'obiettivo Sei un micio Molto bravo Molto influencer Sì sì No lo so Che non vuoi stare qui Un secondino Dai Questo è letteralmente Tortura Su animali Povero Sì adesso Ti lascio andare Questo pigiama È pura setta cinese Che in realtà è plastica Mi sta veramente Facendo sudare Un sacco Siamo accompagnati Di sottofondo Dai micro Sì dai micro Certo Che c'è? Ti metti lì? Amore Vicino alla mamma Vuoi stare? Tu Vieni qua Quanti fili Da mordicchiare Fatti vedere Quanti sei carino Mettere qua Con la mamma Ti metto nel lavandino Se vuoi Come ha fatto lei Doveva accadere qualcosa In questo caso Il telecomando Della luce Cosa fai tu? Cosa fai tu qua? Nella manca da bagno? Ma si può sapere? Faromo Faromo Cioè prima fa un occhio Coupe Cosa fai? Di togliere il No Cattino Poffer giù Cosa? No Non ho preso Mascara Dannazione No Ho lasciato giù Anche Il setting spray Ah no è qua È carinissimo Sono così Io mi mangio Le parole comunque E poi qua Avrei dovuto aprirlo prima Ma io ovviamente Non lo faccio mai Vabbè non voglio dire Che cosa sembra Perché è brutto Quindi stai zitta Gaia Prosegui È tipo una mini colla Con dei glitter Mini colla no È una colla Con dei mini glitter Al massimo Penso che in realtà Prenderò il verdone Carlo verdone Che tempi verbali So usano Innanzitutto Allora Ah vedi Però uso uno specchio Più Allora Devo riorganizzare Un po' Gli spazi qua Allora Innanzitutto Vediamo se riesco ad aprire Ok Invece sul giallo C'è scritto che Illumina i dark spots Quindi le Dark spots Punti scuri Come si dice? Devo concentrarmi un po' Oggi è proprio È proprio lunedì Andare a Un po' Ehm Oggi non so parlare Ma che succede? Log C'è la gattaiola Sei capace a usarla? Entra! Vieni! Mi guarda Da fuori Dalla gattaiola Cioè Come se non Come se avessi Chiuso fuori Sul balcone Ma È uscito da solo Come sei riuscito Puoi rientrare Dai Bravo Che sei riuscito Vai Dai Eccoci qua Bravo Allora Sì Che divertenti Pennelli Che bello Giocare Con i pennelli Della mamma Tu Devi proprio Buttarmi giù Tutto quello che trovi Sei veramente Adorabile Con sto sguardo Perché non si apre più Ma questa giornata Cioè Veramente iniziata In maniera Estremamente Faticosa Extra strong C'è scritto qua E c'è un motivo Ma io Come faccio a perdere Sempre tutto Ciò che ho davanti Al naso Ma Coupe Cioè Non ce l'hai veramente Bisogno Quando butti giù le cose Perché ci penso Già da sola Tu sei proprio Monello Sei Vieni qua ASMR Diffusa Tutto ciò Io non so Dove ho messo Il rossetto Cioè C'era qua Tu vuoi stare l'imbraccio Alla mamma Ma la mamma Deve finire il video Insediare Insinuare Giusto L'assolato Sì Ciao a tutti E benvenuti In un nuovo video Un po' diverso Dal solito Ma non ho gli anelli Giusto Devo mettermeli Quindi Sulla scia Di questa Co Un inverno 2023 Che Vogue No Non Vogue Ma Vanity Fair Cioè L'ho appena detto Vabbè Che Vanity Fair Ormai sono fisata con Vogue Perché faccio il Basic Vogue Quindi ormai l'unica rivista al mondo per me è Vogue Perdere Cominciamoci Cominciamoci Possibile Non avrei mai pensato che una base viso potrebbe essere Potesse Non so più parlare Vabbè Non lo so cosa pensare Perché comunque a me il blush piace In ogni modo In ogni luogo E quello Quale correttore sta usando? Di nuovo Visto che devo compensare L'exclusive nude Come cavolo si chiamava? Expensive nude Vado ad usare la matita di Baby L'ho detto malissimo Ma poi questa non è manco nera Questa è marrone Con Jack Sto sudando Momento proprio topico Faccio un contorno labbra Con la lip pencil numero 41 Di We Makeup Sta cadendo tutto Ora devo continuare con Mi sono perso su cosa sto dicendo Che fatica Queste sono i piccoli Ho dato veramente Non svalutate Le vostre sopracciglia Non sottocrossate Non svalutate Sto facendo proprio Lo Lo Spoiler Tutto ciò mi è volata la spugnetta Non so dove A parte che vabbè Qua c'è anche quella Molto carino Come Come se avesse un po' di Ah no Questo è un mascara È un mascara O un mascara Ah Mascara Perché non entra più Dove Dove stava Ok È molto carino Vibrante Luminoso Cioè non luminoso Sto dicendo Vediamo Vediamo Adesso Swatch Cioè provo Il test Faccio il test Katie Katie Tu pure i moscerini davanti Tipo Vado a sporcare Come ve lo faccio vedere Così Però Ups Quindi Vado a prendere Ups Possibile che non abbia un rosso It's me Hi It's me No No sui jeans No Lol Non ho mai iniziato un video con te Nel mio studio Cioè è la prima volta che registriamo un video davvero insieme Tutto Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in questa settimana di Ho già sbagliato No 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 Il mio telefono Ups Spera rifai un attimo Le mangiamo lo stesso Non vi preoccupate Un po' più avanti con la sedia Fastidio Dopo un po' Mi Mi Non mi saziano Ok Andata Ti è già pronta per i dolci No in realtà no Per ancora mangiare il salato Stai iniziata a ruttare Non finiremo mai A parte che mi si stanno appiccicando tutti i denti Che mancò la dentiera di mio nonno Uami Morto Un occhio Un intenso occhio Ma più che altro aspetta Sistematelo un po' Vabbè Allora adesso si Ma l'hai ingoiata? Si Ma è un chuliam Però è buono Non mi piacciono i bit I bit Buttiamo Noi ci vediamo nel prossimo video Peace out Aspetta Truccarvi Semplici E poi vi parlo anche del protagonista del look occhi di oggi Che è il dreamy shine liquid lipstick Si liquid lipstick Va bene E poi vi parlo anche del protagonista del trucco di oggi Che sarà il dreamy Non ce la faccio oggi Ma si va bene così Va bene lo stesso Metto ancora un po' di gloss Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Ecco Et voilà Et voilà Cominciamo bene Oggi completamente vestita di bianco Con sfondo bianco Già col fototinta in faccia Sembro uno spettro Quindi abbiamo il link Il Ok Allora Sono adesso punto Adesso punto Quelli di Mulac Quelli di Astre Felicità Un bicchiere di vino Con un glitter La felicità Effetto Incurbante Ok Questa è una delle mie rubriche Perfette Perché è best seller Si più venduto E' giusto Ricominciamo E crea grip Che cosa vuol dire? Crea Attaccamento Crea E comunque Direi Che Adesso Possiamo sbizzarrirci Un attimo Con gli scimm E quindi Secondo me Questa è stata un po' La fortuna Di questo Ross Anche perché Tra l'altro Stanno venendo A mettere il letto A castello Il letto soppalco Scusate Però Però Questo ha avuto Se siete arrivati A questo punto del video Commentate con le magie Di un letto Perché stanotte Finalmente Dormiremo nel nostro Letto nuovo Non vedo l'ora Di farvi vedere tutto Ma Per quello Vi ho detto L'ho promesso Entro Natale Arriverà E noi ci vediamo Nel prossimo video Peace out Che in dotazione Ok La palette ovunque Questo qua Che prodotti Chiara Ferrar Non mi veniva Povera Chiara Abbiamo anche Dei prodotti Della nuova collezione Di Chiara Cos'è Cos'è sta voce Che mi è venuta Nel frattempo Aia Riesco a smettere Di ruttare Ma chi è Cioè la cremosità Che ho appena Che ho appena Che ho appena Che ho appena Mamma mia Il diffusore Una via di mezzo Tra opaci Allora Come illuminante Vado ad usare Light therapy Dopo Ci mettiamo anche Un Non è questo Il tappo Giusto Questo era Poi Come Uso Il La brow glue Di Che mi chiama Pronto Sì Ciao Senti Sei in casa Questo non mi piace Qua Vabbè Ormai Mi piace Mi piace un sacco Nell'angolo No Non è vero Ne metto anche Un goccino Qua Che cavolo è successo Io ho preso Appunto Come vi dicevo Devo metterli davanti Questo qua Di essence Continuo con Catrice Che è così Cos'è caduto Quelli di Devo messere Foppici Mi sento un po' Basta Ma perché Ho cambiato la sedia Esagero ogni volta Sopra figlia Sopra figlia Effetto Wonder extension Wonder extension Non ricordo Dai però Metti a fuoco E se siete Arrivati a questo punto Dei video Commentate Con Stai piantando Dove Il piede Mi da fastidio Si deve spostare Un po' Più in qua E su pure Scusate Un po' Di ossidio Oggi Il fondotinta Che vado ad usare È questo qua E come illuminante Il light E come illuminante Il light Perché non riesco a dirlo Però è glitterato Abbast... Molto carino Ma adesso Prendiamo I multicrome Multicrome Noi ci vediamo Nel prossimo video Peace out Come l'ho detto L'ho detto male Ciao